Con la pretesa La via della conoscenza attraverso Attilio M, una voce. Quando voi umani parlate della vita, la riducete a quel che vi riguarda e che succede intorno a voi, ma anche a come siete capaci di interiorizzare i fatti, riproponendo la stessa immagine già elaborata nel passato è continuamente riconfermata. Vi è stato detto che quel che governa la vita è l'impersonalità, però voi vi sentite sempre chiamati in causa. Certo, poi dite che ci sono anche cose che non vi riguardano, cioè i fatti insignificanti, vale a dire tutto quello che non vi colpisce, non vi danneggia, non porta né gioia né amarezza, poiché considerate vita solo quello che suscita il vostro interesse. E quando niente vi colpisce, allora la vita vi appare un susseguirsi di eventi da subire, in cui prevale la monotonia di una vita ben poco vita. Quindi vita è tutto ciò che vi riguarda, vale a dire che vi chiama in campo, che vi definisce, che vi sentite in grado di assimilare, costretti o non costretti, ed in base a cui costruite la vostra identità. Alle volte vi sentite entusiasti ed altre volte depressi, però non dipende da come si articola la vita nei fatti che accadono, ma dalle barriere che avete posto a vostra difesa. In ogni caso voi affrontate la vita in modo selettivo, esaltate certi fatti o certe persone e ne denigrate altri, entusiasmandovi oppure deprimendovi, e laddove ci riuscite, respingete tutto quello che è in contrasto con le concettualizzazioni e le barriere che avete creato, mentre siete pronti ad accogliere chi e che cosa vi conferma. E vi comportate come se persino la vita fosse da vivere solo quando vi conferma, mentre diventa subito problematica quando non sembra curarsi delle barriere che avete retto a vostra difesa, perché vi accostate alla vita con la pretesa di avere successo ed ottenere ricompense per i vostri sforzi, sentendovi negati quando vi ritorna un insuccesso. Ed allora cercate di scoprire quali siano gli elementi che lo abbiano prodotto, in modo da allontanarlo in fretta per ritornare in un futuro prossimo al successo. Questo significa pretendere di stabilire come dovrebbe essere la vita che si traduce poi nel creare le basi per un conflitto interno, quasi perenne, e per una futura infelicità. Continua VoceDellaQuiete.VaianoChiocciolaGmail.com